Soltanto che sono molto contenta e che invito i relatori a farci pervenire il loro scritto, così poi su ricerche teologiche avremo un forum dedicato a Chloe, come è nostra abitudine in circostanze analoghe. E poi volevo ringraziare Anna perché ha ricordato la carta della donna e cristianesimo che io viceversa avevo completamente cassato. In effetti è la carta della donna e cristianesimo in sinergia con la SIRT che organizza questo incontro. E tu ricordavi l'aver messo a tema il libro su Ipazia e Sinesio che è stato fatto proprio nel contesto della cattedra. Diciamo che le due cose, l'attività di Chloe come socia e la cattedra si intersecano proprio perché sono gli stessi i temi che trattiamo e che ci appassionano. E poi sono molto grata, ma mi aspetto quello che dirà Chloe, perché ricostruire il tessuto dei rapporti ha una valenza tutta particolare nella storia delle persone. E chiaramente noi che conosciamo Chloe, forse più dall'esterno, ci mancano determinati dettagli e allora veramente sono molto grata a quelli che sono intervenuti perché ci hanno dato una sfaccettatura, una collocazione, un rapporto di esistenzialità, un tipo di concretezza che ce la rende ancora più affascinante e più cara. Io, Giovanni, non direi altro questa sera per quanto mi riguarda, ripeto, tranne che ringraziare tutti quanti e te in particolare e poi tutti i nostri ospiti e anche quelli che ci stanno seguendo. Io, Giovanni, ripeto, sono molto curiosa di sentire Chloe perché già il curriculum, così come l'ha steso, è abbastanza originale perché normalmente noi partiamo dando dati nudi e crudi, mentre lei comincia con l'auto presentarsi nella rete dei rapporti familiari, nipoti e pronipoti inclusi. Grazie, auguri.